Presentato ieri mattina a Roma presso l'auditorium del Ministero dell'Ambiente, il cortometraggio realizzato da Vittorio Brumotti che ha attraversato tutta l'Italia in sella della sua mountain bike da nord a sud per raccontare le bellezze naturalistiche di tutta la penisola. L'attenzione di Brumotti si è concentrata in particolare sul territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo molto soddisfatti, ha dichiarato il presidente del Parco Tommaso Pellegrino. Il nostro territorio è su una vetrina importante. Brumotti rappresenta il testimone all'ideale amante della natura e sempre in difesa dell'ambiente.